È la tua ultima occasione. Se rinunci, non ne avrai altri. Pillola blu, il 12 ottobre passerei tutta la giornata sul divano a guardare la televisione. Pillola rossa. Tommy, ma avresti dovuto prendere la pillola rossa? Dovevi andare al Next Generation Fest. Ma a me piace stare sul divano. Poi non so nemmeno cos'è questo Genics Festival. Allora, che te ne pare? Siete del teatro mi sembrano un po' scomode. Ma che commento è? Poi quella era l'edizione dell'anno scorso. Quest'anno ci saranno più di 60 nuovi ospiti. I presentatori. Pettinato, Maffaei e Vagnato. Li conosci, no? No. Martina Stratzer. Amabile, i gioielli? No. Fabio Caressa. Il telecronista. Aspetta, lo voglio rivedere, Fabio? No. Lui? Quello che fa tutte le cose in latino. Omnibus, qualinque pop, i tipi di... Galimberti? No, questo è Edoardo Prati. Anche se all'evento c'è anche Galimberti. Giulia Pauselli. Iginio Massari. Chi? Will Bush. Nina Rima. Ariana Craviotto. No. Gazzoli. Ah, lui lo conosco, quello che va a tutti i podcast. No, Tommy, non va a tutti i podcast. Il podcast è il suo. Si chiama... Vabbè, ho capito. Il 12 ottobre, al Teatro del Maggio, a Firenze ci sarà il Next Generation Fest. L'ingresso fortunatamente è gratuito, però ti devi prenotare sul sito perché i posti sono limitati. Vabbè, da qui a maggio. No, è il 12 ottobre, Teatro del Maggio, è il nome del teatro. Che mi sta succedendo? Eh, la pilola blu.